Questo capolavoro, che guarda come lui archiura la palla, controllo veloce, poi la palla va all'introcio dei pali. Allora, questa è un'azione nata da Pulibali, che come nell'occasione del gol di Miang, esce alto, non vince la giocata, rientra tardivo e poi fa fatica a scalare. È successo anche al Paranoiano Gomez.